Konnichiwa e benvenuti a voi nel mio canale, sono come sempre Giappogamer, benvenuti qui in Yakuza 6 del Songon Life ovviamente per continuare questa avventura incredibile ambientata in Giappone allora, dobbiamo andare a trovare i rose, mi pare, se non erro, allora ragazzi, parliamo un po' con lui ah, c'è il suo telefono? ok, e dobbiamo trovarlo, eh sì, dobbiamo trovarlo, ah la storia delle telefonate, ok e controlliamo la rubrica, vediamo un po', vai usciamo va e dai, vieni, dai, tranquillo ah, no, dice no, no, dai, sto bene, eh, calla dobbiamo trovare il vostro boss, dai, dai, coraggio, coraggio dici, dai, puoi essere pericoloso per te stesso dici, dai, tranquillo, andrà bene, non mi stai a preoccupare ho un affare con la Yomai Alliance non mi scocciate, dai, ci vediamo altrove, dai e vediamo un po', allora oh, più che altro chissà come come sta il nostro eroe qua ora vediamo un po', troviamo qualche vending machine, va allora, eccola qua prima di avventurarci, diamo un po' come sta il nostro, il nostro eroe allora, vediamo un po', andiamo di te ah no, ma sta messo bene, dai, sta abbastanza a cannone, bene così va bene, ok corriamo, va questa cittadina, siamo nei pressi di Hiroshima Hiroshima o Hiroshima che è qua no qua ok, direi di sì, bene non sbaglio, bordo oh, eccoti, come stai, tutto a posto, mamma? eh, so, con l'interno del counter ma aspetta un attimo, un attimo, dare una controllata al cellulare ah, cazzo, l'ho vista la password dice, magari può essere il numero di Kiyomi eh, chissà, bu ok, c'è poi solo una chiamata ok, non appare niente address book, va bene ci servo qualcosa? no, no state tranquilla non ti preoccupare dice, hai visto il cellulare di rose? poi tempo fa eh, rischio, un rischio, sì eh, già socca ok, prende il cellulare di rose dovrebbe essere quanto bloccato, direi ok in modo gaspia tocca and'acqua in questo paese allora, vediamo un po' là che sotto ci sono degli scagnozzi eeeh vediamo un po', allora vediamo un po' il da fare qua ci sta la solita stazione della funivia da sotto ci sono appunto i padri di scagnozzi la si può mangiare central shopping district vabbè, vediamo un po' a random vediamo un po' due gaspia di andare che gaspia scusa amico non volevo vediamo un po' a questo chi è, eh eh, calla ah, trouble mission un po' che protector vediamo un po', vediamo un po' nooo, cazzarola gli hanno rubato gli hanno rubato il portafoglio vabbè, ci abbiamo 223.000 iena voglia dai, coraggio catturiamolo vuoi che è spendato di qua? sì, eccolo qua, eccolo qua non scappi amico non tu vai? eccola blocca di qua io te amico c'è un attimo ha leggerito il il portafoglio caro Iruta inizia a prendere questo qua così ok e ridacci i soldi intacci tua ladrunco lo consigli che non sei ecco, ok, bene ok ci abbiamo nei mail Torafuru vediamo un po' che dice pickpocket sandpacking mh, ok Torafuru vorrebbe essere molto vedete, Andrews è molto pericoloso apparentemente pickpocket ah, in accordo con la polizia ah, ecco ai 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 grazie chi lo sanno lo mettiamo ok va troppo vediamo un po' che dice vabbè, ok che deve venire pure la polizia direi di no per cui ahiaia chi arriva qua sotto ecco 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 i schegnozzi eh vedete la Yakuza bastardi vai così modalità bestia vai così scateniamoci vai così grandissimo Kiryu vai anche da per terra vai così uno è andato vieni qua ti utilizzo come come Pungible sei andato bene pure tu e vieni non ti parare ok bene così defend yourself bene abbiamo finito anche quello bene ottimo così e vediamo un po' che fare in questa in questa nottata va via un po' ci sono altri scagnozzi qua su ok anche qua giù eeeh lì c'è un negozio acqua ok vediamo un po' andiamo là che via un po' che accade va coraggio Kiryu coraggio scusi ancora su trouble eh route 2 mmm and ono mici illness ok sta lì vediamo un po' ah sta male un personaggio cavolo che c'hai ma di pancia che c'hai vai prendi questo va ok aspetta un attimo la tauness oddio dove è spia sta porchi niente qua è tutto macialatte senti non è capito ci posso dare dai non è capito no no la tauness è zz dove caspia la trovo amico su abbi pazienza non ci rompere i coglioni più tanto e ci abbiamo fatti 4-1-52 cazzarola vabbiamoci a noi val di cavità c va troviamo un'altra vending machine porca la misera dai cerchiamo di finire questa sub question in qualche modo carino vediamo un po' forse di qua sta si infatti mi ricordavo ok vediamo un po' qua la tauness 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 e qua cazzarola non la vedo porca la miseria suku suku ole ma non è che col latte ole porca la miseriaccia boia ci sta un combino in queste parti ma però qua c'abbiamo altre due vending machine vediamo un po' va non mi ricordo una ceppa di cosa no qua non c'è no però mi pare che non ci stasse nel nelle vending machine ci sta il curo santori black olong ti buonissimo me ne bevo all'idri c'è caffè boss pure me ne bevo all'idri rainbow vabbè anche il il light sugar o anche il black è buonissimo di caffè si ok un po' l'americana un po' l'acqua però comunque a me piacciono così è muo la town è sto caspita la che trovo porca miseria sta è la farmacia a ste parti e non suonare amico su che mi rincoglionisci già sono il mio vediamo un po' di qua c'è la para farmacia mi pare a ste parti no questo che vuole che c'è può combattere da mozu dai vieni qua poi mi fa un po' di ginnastica ok bene bene eh su ok bene vuoi far parte del nostro clan grandissimo ben accetto ottimo così ma non c'è una para farmacia appunto da ste parti no questa che c'è eh beh non lo so non avevo tanto farmacia però qua c'è un'altra vending machine diamo una controllata va una ceccata c'è il grape frutta grape buonissimo ma la town non la vedo white soda pure il tè coffee moga niente porca miseria la town non la trovo a nessuna parte quanto ci rimane 3 minuti e 25 tofu no dai c'è un attimo fretta dai mo pocket circuit fight returns si siamo noi siamo Kazuma Kiryu si sta tranquillo pocket circuit karts il Kamurocho no no dai niente macchinine dai ecco piccoletto vuoi giocare con lui con le macchinette e dai Sakito no dai su ci vorrebbe portare a gareggiare con le macchinette piccole ma non so più tempo per giocare dai abbia pazienza riuscire a fare qualche lezione inglese è buon per lui ma male che i giapponesi non sanno mica tanto bene l'inglese ecco pura madre ecco sta tutta la famiglia qua no dai che così devo salvare già una persona dai dammi un Taunus dai su eh arigato oh bella male l'abbiamo fatta ci vengono 3 minuti e 22 secondi porca miseria e non so dove caspita trovare la Taunus che comunque sta negli angoli eccola qua ci manca andare no 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 non devo andare in nessuna parte no 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 eh eh matanè matanè sì no sì infatti ci vediamo dove caspita trova una Taunus porca miseria l'amico mio mi sa che ci rimane male eh che disegno stare appunto nei negli angoli nelle cose ma passiamo un po' di qua vediamo un po' qua spazzatura porca la miseriaccia boia no ma la Taunus mi scuola nelle macchinette e in vending machine portiamo questa la mystery drink che potrebbe crepare del tutto o addirittura ringiovanire boh vabbè no 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 dai vuole quella là eh pretende quella vuole quella qua non ci sta ma con caspita i combini da queste parti vorremmo entrare qua si può entrare qua no è chiuso porca la miseria nessuno sta a casa no niente mi sa che il nostro amico mi sa che starà male vediamo un po' oh hero de san oh la finestra è aperta vediamo un po' va vai vai di scala vai di scala bravo Kiryu così ti voglio intraprendente vai così e fissa l'hai fissata bravo Kiryu così ti voglio ottimo così Kiryu vai sali su bravo sali su ripetiamo un po' di trovare i rose allora vediamo un po' investigate i rose del room ok abbiamo un attimo da investigare che l'hanno abrenato vediamo un po' facciamo un check mmm ci sono degli snack mmm ok ok andiamo a negozio di snack che va dai chi costrui e ho capito manca un minuto e 49 mi sa che l'amico ci rimarrà un po' male e vabbè vediamo un po' usciamo un attimo ah cazzarola è chiuso? no non è chiuso ok e calla e calla brutti cefi maledetti sono gli uomini agli omei e calla dove è i rose? eh quello me lo sto chiedendo pure io cosa volete? che caspio volete? quindi cosa stanno cercando dei ragazzini? grandissimo Kiryu così si fa così tipo eh ragazzini però sono un bel po' e dei ok adesso facciamo fuori il dragone di Dojima e venite qua brutti bastardi maledetti vai così col dragone vai così vai così vai così grandissimo Kiryu venite qua vai vimeno pure con la pianta brutti bastardi vieni 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 qua bastardone non da dietro non da dietro vai così vai così modalità bestia vai così vai così mi sei rimasto solo tu? ok grandissimo Kiryu mamma mia abbiamo fatto fuori tutti ottimo così ok non ti credevi eh 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 v'ho battuto a tutti eh già eh eh no no non ti voglio dai no dai non ti voglio uccidere dai su eh non direvo l'acce però eh questo vuole proprio crepare dice sta zitto ok e dice e dice e dice ai tuoi amici che ci sentirai dimmi perché la Yomai Alliance sta cercando il patriarca dai Rose ah capitan Koshimitsu mmm a Hirose come prigioniero mortacci vostri guardate la faccia di Kiryu seriamente è così ah eccolo qua eccolo qua sì 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 mi ricordo mi ricordo e riguardo Masuzzoe sai niente dove potrebbe essere Masuzzoe in Tokyo e che lavoro sta facendo a Tokyo con qualche cosa con un ragazzo someglia del Tojo clan ah interessante in questo caso vedo che ci vedremo eh che ci entra che vuoi da patriarca Masuzzoe dice cose interessanti cose interessanti ah pure pezzi di merda dice chi ha i mortacci due ok ok andiamo allo snack or glass or glass insomma come si chiama e vediamo un po' che accade scusa amico no sveglia la strada cavolo di qua mamma mamma mia che stradina buia ok snack snack or glass questo è il posto scusi lavora qua no nessuno mi ha chiesto prima sinceramente questo di solito questo bar non apre spesso cosa sta cercando cosa vuole sto cercando qualcosa di questo qua sa niente dice patriarca irodri rose family l'ha vissuto di recente kiryu san come fai a conoscerci patriarca irodri ah ha detto me l'ha detto ok al bar oggi però ho avuto un messaggio che ti vuole dire al ninja ah ok al tempio ok vabbè tocca andare su al tempio grazie mille gara dai ok dobbiamo andare a Ryunan Shrine ok ma potremmo andarci anche tranquillamente nel prossimo episodio per quanto riguarda questo episodio qui di Yakuza Zed Song of Life termina qui io spero che ti sia piaciuto se quei fosi vi invito a lasciarmi un bel like e un commento a condizione con vostri amici io vi ringrazio uno a uno per essere dati fin qui seguitemi nei miei vari social iscrivetevi se non siete iscritti dal vostro Giappogamer è tutto non ha questo trouble qua che caspia vuole beh comunque mi sa che l'amico di prima mi sa che non so come se sia bene o male non lo so c'è bisogno di una di una bevanda che non abbiamo trovato ma comunque magari non lo so vabbè comunque insomma dal vostro Giappogamer è tutto salve signora sayonara e ai prossimi episodi grazie a tutti Grazie a tutti